E vai! Dazon fa scattare i rimborsi! Un quarto dell'abbonamento del mese di gennaio per i disservizi di InterNapoli. La decisione è stata presa anche dopo gli incontri istituzionali, il Vertice con il governo e le altre parti, in cui Dazon ha confermato che il problema non è stato causato da Dazon, ma da un partner esterno globale, però si è assunto la responsabilità e ha detto ok, rimborsiamo gli utenti. Ve ne avevo già parlato, ci scusiamo, è inaccettabile, ma non è colpa nostra. Sì, lo hanno confermato. E talmente non è colpa loro che fanno i rimborsi. Bene. Il problema è che questi rimborsi parziali non dovremmo vederli come una notizia assolutamente buona. Cioè, d'accordo, va bene, almeno non abbiamo la beffa, oltre al danno, di dover pagare il 100% con il disservizio che c'è stato. Ma dall'altra parte, significa che non c'è un grosso incentivo ad evitare che succeda di nuovo la stessa cosa. Sì, d'accordo, Dazon ha il deterrente di dover rimborsare gli abbonati e quindi lavorerà affinché non dovrà farlo di nuovo. Però se ogni volta vado a rimborsare, significa che non sto intervenendo sul problema. Perché il problema non è solo che costa tanto il servizio, ma è che non funziona. Non funziona sempre, ok? Prevalentamente funziona, qualche volta no. Ma intanto vi sblocco un ricordo. Quando mai vi è capitato di avere problemi di trasmissione con Stream, Telepiu, Sky? Mai? Mai nessun problema? A parte magari il temporale con l'antenna satellitare? Ecco, allora perché nel 2021, 2022, 2023 dobbiamo scoprire che dopo aver pagato può capitare che non riusciamo a vedere una partita di calcio in diretta? Tralasciando questo, ma tornando sul discorso efficienza del servizio ed evitare il ripetersi del problema, Dazon ha anche annunciato la centralizzazione in Italia di tutta una fase di controllo tecnico sull'instratamento del segnale verso l'utenza. Cioè hanno dislocato in Italia questa fase di controllo invece di lasciarla all'estero, il che dovrebbe facilitare le cose ed impedire nuovi disservizi. Ora, intanto una modifica del genere può suggerire un'ulteriore ammissione di responsabilità. Cioè, come era strutturato prima, non funzionava e quindi i problemi dipendevano da Dazon. Ma da un'altra parte non so se sentirmi, come utente, rassicurato o ancora più preoccupato, perché i problemi di infrastruttura di rete in Italia sono forse peggiori rispetto a quelli all'estero. E non parlo della rete Dazon, parlo della rete di cui tutti usufriamo, compresi voi che state guardando questo video. Quindi, boh, vediamo. Io, nel dubbio, mi aspetto il prossimo disservizio ed eventualmente i prossimi rimborsi. Però spero di sbagliarmi. Grazie.